presentato ieri sera il nuovo calendario della Morenita 2014 nella splendida cornice del Morenita Aristopaba Udine in Viale Europa Unita a pochi metri dalla stazione ferroviaria. A curare il calendario nella sua veste grafica Pier Giorgio Grizzo, noto fotoreporter pordenonese che ha estratto dal suo cilindro l'ennesimo gadget promozionale organizzato dall'associazione Luce Scrittura. Un evento che si candida fin da ora a diventare un must un appuntamento tradizionale di questo scorso di stagione. È un locale con il tocco di originalità delle illustrazioni ispirate a corto maltesi. Una gestione familiare con mamma e cornelli, figlia e nipote al banco un luogo d'incontro non solo per la comunità latinoamericana di Udine ma soprattutto per gli udinesi per gli autottoni. La protagonista è la bellissima padrona di casa Ana Milena Quero italiana di origini colombiane assieme alla cugina gestisce il locale. A voi la linea. Senti, perché è andata bene questa serata? È andata bene perché abbiamo fatto vedere la nostra bellezza, la bellezza latina, la bellezza della proprietaria che è Udine e ha fatto vedere la sua specialità, le stagione alla. È molto simpatico, vedere sempre quali locali, come si è un po' noi, avere un po' di mollito, un po' di abanacola, facciamo sempre la serata sudamericana, italiana. Sudamérica forever? Sì, Sudamérica forever. Sì. 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 Sì.